salve eccoci qua con l'altra con la terza lezione di uncinetto allora abbiamo fatto tutte maglie basse e adesso abbiamo già fatto il giro di maglie basse doppie adesso vi insegno a fare un punto archetto che serve a fare una specie di pizzettino quindi fate stringete bene il filo poi fate 1 2 e 3 catenelle saltate un punto entrate nel punto successivo prendendo due maglie e fate una maglia bassa poi fate di nuovo 1 2 e 3 no saltate un punto saltate questo punto e fate una maglia bassa andate avanti 1 2 3 saltate un punto e fate una maglia bassa in questo poi fate 1 2 e 3 saltate questa maglia è andate in quella successiva è fatta una maglia bassa poi 1 2 e 3 saltate questa maglia è andata in questa sempre maglia bassa scusate ho perso il cappietto poi 1 2 e 3 saltate questo andate in questo 1 2 e 3 saltate questo andate in questo spero che si veda 1 2 e 3 saltate questo andate in questo 1 2 e 3 saltate la maglia è andata in questa 1 2 e 3 saltate la maglia è andata in questa 1 2 e 3 saltate la maglia è andata in questa poi di nuovo 1 2 e 3 saltate questa è andata in questa tirando bene il filo perché si stava capito si stava allargando troppo e siamo arrivati alla fine puntiamo l'uncinetto nel punto dove abbiamo iniziato e siamo arrivati alla cima del giro vedete che abbiamo fatto tutti questi archetti adesso io procedo ancora di un giro faccio una catenella entro nell'archetto tiro il filo e faccio una maglia bassa di nuovo entra nell'archetto tiro il filo e faccio una maglia bassa forse non si vede ancora deve illuminare maggiormente il lavoro un'altra catenella metto il filo lo tiro e faccio un'altra catenella insomma sogni facciamo 3 catenete maglie basse per ogni archetto distanziando ogni archetto da con una catenella quindi quando avete fatto 1 2 e 3 maglie basse nell'archetto fate una catenella e rientrate nell'archetto successivo facendo di nuovo altre 3 maglie basse quindi una catenella altre 3 maglie basse una catenella e altre 3 maglie basse fate 2 2 3 maglie basse una catenella e 3 maglie basse una catenella e 3 maglie basse e andiamo avanti così no questa l'avevo già fatta la catenella finché non abbiamo finito tutto il giro di archetti lo vedete perché gli archetti che rimarranno vuoti saranno quelli che non avete ancora lavorato ecco adesso io dovrei essere arrivata alla fine perché mi sembra che qui ho già fatto le maglie basse sì quindi chiudo qua faccio una maglia bassa e finisco il giro e abbiamo fatto questo lavoro che già diciamo rappresenta comunque una rosellina da utilizzare sia per fare gli orecchini in questo caso l'ho fatta con un filo molto sottile quindi andrebbe poi plastificata con la colla come ho fatto per esempio con questi orecchini che vi faccio vedere che sono stati fatti all'uncinetto con lo stesso tipo di filo però per renderli rigidi io li ho cosparsi di colla vinavil vedete che la colla non si vede però la maglia è diventata rigida si vede un po meglio la tra un po meno la trama però per poter utilizzare e fare gli orecchini ho dovuto fare questo classificazione quindi con un po di colla vinale vi lasciate asciugare una giornata ottenete un orecchino che adesso è morbido ma se avete un filato sottile diventa rigido chiaramente qua ancora non possiamo fare delle applicazioni perché il giro è poco e quindi potremmo mettere solo qualcosa qua oppure potremmo fare un giro di cristalli io credo che l'orecchino lo dobbiamo fare un pochino più grosso comunque questa rosellina o questo motivetto qua potete anche chiuderlo qua e poi farne tanti a catena quindi strutturando o non so un giro collo o un braccialetto magari sono grandi facendolo un pochino più piccolo oppure se volete potete metterli assieme e fare una stola uno scialle insomma questa è una base per fare si chiamano moduli no questo è un modulo per fare tante cose ora nel nostro caso io la sto facendo per realizzare una base per bigiotteria però potesse una volta che avete imparato la tecnica potesse potrebbe essere utilizzata in tanti campi bene la terza lezione è finita spero che si riusciate a seguirmi fatemi sapere nei commenti se siete riusciti ad arrivare a questo punto se avete trovato difficoltà se ci sono dubbi iscrivetevi e ci vediamo la prossima volta mi raccomando iscrivetevi al canale ciao a tutti